Il Giorgio di Pallavolo La nostra squadra è sempre un piacere Mi hanno dato la maglietta con un'altra sportina, con altri regali Sei contento che siano venuti? Molto, hanno fatto un grande gesto Faremo una partita a calcio e faremo anche altri sport Non hai voluto mancare anche tu papà e mamma? No, assolutamente, dobbiamo metterli sulla buona strada già da subito perché poi quando c'è il cambio di generazione mi prende il posto, dai in curva Sì, abbiamo cercato di dare una giornata di spensieratezza, di gioia a questi bambini Mi sembra che l'approccio sia positivo quindi cerchiamo di dargli un po' di conforto e fargli capire che bisogna andare avanti si cresce e si continua No, è una bella cosa Comunque mi fa piacere essere qua oggi e vedere questi bambini che comunque sono appassionati di calcio e di Bologna e dargli questa soddisfazione in questi giorni magari un po' difficili è davvero bello Al di là di portare qualche genere, chiamiamolo materiale, sull'indicazione della protezione civile vorremmo portare qualche ora di spensieratezza per allentare un po' la tensione che questi ragazzini accumulano in questa situazione difficile Bene, siete pronti per giocare adesso?